Buonasera a tutti, un saluto a voi che siete a San Giovanni Rotondo, un saluto speciale ai frati, ma anche a tutti voi che ci state seguendo tramite app o in televisione su Padre Pio TV. Allora, per la tematica di oggi il fioretto che vi volevo proporre è un fioretto un po' particolare che sento molto mio personale. Diciamo che ogni qualvolta io termino la mia giornata, faccio il segno della croce e mi fermo qualche minuto per ringraziare il Signore della giornata che ho vissuto. Mi rendo conto però che è bene ringraziare il Signore non solo in maniera specifica per la giornata vissuta, ma anche all'inizio della giornata, quindi quando do inizio la mia giornata, inizio le attività e affronto la giornata che mi aspetta. Quindi il mio proposito è quello di, appena alzato, di fare un semplice segno della croce. Certo, non è una cosa molto difficile, però è qualcosa che man mano nel tempo potrebbe diventare qualcosa di abitudinario, è quello che mi auguro. Quindi magari facendo questo fioretto, impegnandomi per uno o una settimana, un giorno o una settimana, questa cosa possa aiutarmi a vivere in maniera più profonda questo piccolo proposito che ho. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata.